Carissime studentesse, carissimi studenti, dal 23 al 25 di marzo si terranno le lezioni delle rappresentanze studentesche. Questo mio breve messaggio è per ricordarvi questo importantissimo momento della vita democratica e della vita quotidiana del nostro Ateneo. Il voto è ovviamente un diritto importante che permette di partecipare attivamente alla vita di un'istituzione grande e importante come la nostra. Verranno votate le rappresentanze in tutti gli organi a partire da quelli centrali di Ateneo ma anche a quelli dei dipartimenti, dei corsi di studio, quindi a tutti i livelli il nostro statuto, i nostri regolamenti prevedono che studentesse e studenti possano sedere insieme ai rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nei medesimi tavoli, nelle medesime commissioni, nei medesimi consigli, proprio per portare il loro contributo attivo, per portare le loro idee, per portare e rappresentare anche eventualmente le critiche, facendo vedere le cose che non vanno per poterle in futuro correggere e migliorare. Quindi un momento che riteniamo veramente fondamentale. Per questo sono qui appunto veramente a esortarvi a partecipare numerosissimi e numerosissimi a questo voto. Quest'anno c'è una grande novità, il voto, per i motivi che tutti noi ben conosciamo, non si potrà svolgere nella forma consueta al seggio, in presenza, ma sarà totalmente in remoto. Questa può essere però una grande opportunità per poter votare sempre più numerosi. Infatti, indipendentemente da dove vi troviate in quei tre giorni, da qualsiasi postazione dove ci sia connettività, da qualsiasi dispositivo di connezione voi abbiate a disposizione in quel momento, in un periodo piuttosto lungo, sono tre giorni, avrete la possibilità di esprimere il vostro voto. Troverete sul sito tutte le informazioni, anche un tutorial che vi descriverà bene gli orari, ci sono degli orari precisi in cui si può accedere, le modalità, tutte le informazioni. Ci sono ovviamente anche se ci fossero dei dubbi, le possibilità di rivolgersi per porre domande all'helpdesk e quindi avere tutte le informazioni necessarie per poter esercitare questo importantissimo diritto e dovere di ogni studentessa e studente del nostro, come di tutti gli altri Atenei italiani e del mondo. Quindi nel rivolgervi ancora una volta l'invito caloroso a esprimere la vostra opinione, le vostre preferenze in questa tornata elettorale, colgo l'occasione anche per inviarvi un saluto cordiale, caloroso a voi e alle vostre famiglie e un in bocca al lupo per il prosieguo delle vostre carriere di studio.